Per quanto riguarda invece Azus, intanto lo ricordiamo ai nostri amici, questo è l'oroscopo di martedì 25 aprile 2017, per quanto riguarda lavoro e soldi... Beh, guarda, il Sagittario oggi ha delle occasioni davvero molto interessanti, è una giornata fortunata. Segno favorito invece per l'amore? Beh, per l'amore devo dire che questo Ariete finalmente ritrova un po' di brio, la voglia anche di rimettersi in gioco. Segno del giorno, Azus? È sicuramente il leone, perché questa è una luna magnifica che vi permette di dimenticare anche qualche piccola delusione che avete vissuto ultimamente. Buon 25 aprile a tutti quanti voi, noi ci fermiamo qui, torniamo domani, nel frattempo se volete www.cartomantieuropei.com